Ormai sono circa sei mesi che sto utilizzando N26 e quindi credo di aver raccolto abbastanza materiale per potervene parlare e per potervi dire la mia. Oggi quindi voglio spiegarvi alcune particolarità di questo conto e dirvi magari vantaggi e svantaggi. Detto ciò, sigla! Benvenuti in questo nuovo video. Ho notato che ultimamente c'è molto interesse verso N26 e simili e credo che principalmente il motivo sia perché sono gratis. Tuttavia quando stiamo cercando un conto bancario o comunque in generale un servizio a cui affidare i nostri risparmi, credo che risparmiare 1-2 euro sia l'ultima cosa da guardare. Quindi oggi voglio cercare di guardare N26 nel complesso. Quindi non valuteremo solamente i costi ma anche altre caratteristiche che magari non ho sentito molto in altri video, per cui ho deciso di farne uno io. Direi di iniziare subito con una breve introduzione. N26 è un conto bancario, quindi non è una carta conto come dicono tanti e se non vi è chiara la differenza vi lascio un link a un video qui in alto così potete un po' capirlo. Dicevo, è un conto bancario tedesco. Visto che è un conto tedesco, l'Iban che vi sarà assegnato, quindi l'identificativo del vostro conto corrente, inizierà con D-E, a differenza degli Iban italiani che iniziano con I-T. Alcuni hanno espresso dubbi sul fatto che avere un conto tedesco possa comportare qualche tipo di difficoltà oppure che vi possa impedire di fare determinate cose. Beh, teoricamente non dovrebbe essere così, perché la Germania, così come molti altri paesi, sta all'interno dell'area SEPA, ovvero l'area unica per i pagamenti in euro. E tutte le banche, quindi tutti i conti correnti, sono tenuti ad adottare le stesse normative, quindi avere un conto tedesco teoricamente dovrebbe essere la stessa cosa di avere un conto italiano. Purtroppo però, all'atto pratico, alcuni non si sono ancora adattati a questa normativa che unisce tutti e quindi magari fare degli abdebiti come le bollette oppure gli accrediti dello stipendio può risultare complicato se avete un Iban tedesco. Altra cosa importantissima da dire, anche se credo che sia abbastanza ovvio, N26 è una banca online, quindi non esistono filiali né in Italia, men che meno in Germania. Quindi non c'è la possibilità di parlare di persona con qualcuno. Chiaramente questo contribuisce ad abbassare i costi, infatti N26 come vedremo tra pochissimo ha dei costi molto molto bassi, però per chi si sente più tranquillo con una banca tradizionale, ecco, N26 già ve la sconsiglio. Comunque parlando di costi, vediamoli un po' nel dettaglio. N26 offre tre tipi di conto, il conto base, il conto black e il conto metal. Il primo è quello gratuito, quindi non c'è nessun tipo di costo per l'apertura o per la gestione. Gli ultimi due invece costano rispettivamente 10 euro e 17 euro al mese, però non sono semplicemente dei conti. La differenza principale tra il conto gratuito e questi a pagamento è che gli ultimi offrono una copertura assicurativa con Allianz molto utile per chi viaggia tanto all'estero, sia in Unione Europea che fuori dall'UE. Per chi però appunto non viaggia tanto, sconsiglio assolutamente questo tipo di conto perché è costoso e non apporta nessun tipo di beneficio se passiamo la maggior parte del tempo in Italia. Comunque per capirci alcune cose assicurate possono essere magari il bagaglio che viene smarrito, oppure il ritardo all'annullamento dei voli, o ancora per chi appunto viaggia in paesi con valuta diversa dall'euro, ci sono dei prelievi senza commissioni per chi appunto ha questo tipo di conto. Oggi però principalmente voglio parlarvi del conto gratuito perché credo che la maggior parte delle persone sia interessata a quello. Quindi magari gli altri li lasciamo in un altro video. Se poi volete che approfondisca le differenze scrivetemelo qui sotto oppure nel sondaggio che vi lascio qui in alto. Il conto e la carta non si pagano, sono totalmente gratuiti. Questa è la carta che appunto arriva dopo qualche giorno, non c'è bisogno di pagare la spedizione e anzi vi dirò di più, a me ne sono arrivate due. Già, non so come mai me ne siano arrivate due, probabilmente perché il corriere ha fatto casino e quindi ne ha dovuta richiedere un'altra. In ogni caso ho contattato il supporto che mi ha appunto detto guarda questa è quella giusta, l'altra la puoi tranquillamente buttare. E così ho fatto. Quindi ecco, nota positiva sul supporto che è stato molto veloce e soprattutto non ho avuto problemi con questa doppia spedizione. Sono gratuiti anche i prelievi e i bonifici, indipendentemente dalla somma, non c'è un numero massimo dopodiché pagate. Sono gratuiti, punto. E già questo è un ottimo punto a favore di N26 perché ancora con molte banche si pagano i bonifici. I depositi di contanti invece sono molto cari. Sopra i 100 euro che ci vengono diciamo abbonati dovremo pagare l'1,5% della somma depositata. In altre parole se depositate 500 euro dovrete pagarne 7,5 di commissione. Una follia. Di conseguenza le possibilità per caricare il conto sono principalmente due. O accreditare lo stipendio, come ho detto prima, nel caso non ci siano problemi ovviamente per il nostro datore di lavoro. Oppure versare dei soldi con un bonifico da un altro conto, come sto facendo ad esempio io. Un altro costo che avevo accennato prima è la commissione sui prelievi in valuta estera. Quindi se preleviamo in euro non c'è nessun tipo di costo. Se però preleviamo ad esempio in dollari dovremo pagare l'1,7% di commissione. Che in realtà non è nemmeno così cara perché tutto sommato i tassi di cambio che ho visto mi sembrano abbastanza in linea. Spesso capita di trovare delle banche che offrano appunto i prelievi senza commissioni però il tasso interbancario che applicano è folle quindi voglio dire le due cose si bilanciano. Infine l'unico costo un po' strano che ho trovato e ve lo voglio raccontare perché in tutti i video che ho visto non è mai stato praticamente segnalato è quello di insufficienti fondi. Quindi quando provate a pagare non avete abbastanza soldi sul conto perché magari vi siete dimenticati di ricaricarlo beh vi viene comunicato comunicazione che pagate 3 euro. Non mi chiedete come mai è abbastanza assurdo lo so comunque questi erano i costi e ora vediamo un attimo vantaggi e svantaggi. Il primo vantaggio è ovviamente quello dei costi. Infatti N26 costa comunque molto molto meno rispetto a una banca tradizionale e per la maggior parte degli utenti sarà gratis visto che non svolgeranno operazioni strane. Il secondo vantaggio è quello della semplicità. N26 è semplicissimo sia nell'apertura del conto ci vuole veramente pochissimo nell'applicazione che funziona perfettamente ed è estremamente intuitiva cosa non scontata perché molte banche offrono un'applicazione che però funziona male oppure appunto non si capisce dove bisogna andare per determinate cose. N26 invece promossa. Altro vantaggio la tecnologia. N26 è molto all'avanguardia per quanto riguarda le ultime tecnologie del fintech per esempio l'integrazione con Apple Pay e Google Pay che personalmente utilizzo molto nei pagamenti di tutti i giorni. Inoltre grazie all'applicazione è possibile cambiare il pin della carta in tempo reale ed è possibile anche bloccarla nel caso appunto magari l'abbiamo persa o ci abbiano rubato il portafogli. Altro vantaggio le funzioni aggiuntive. N26 offre ad esempio una funzione che si chiama Money Beam che ci dà la possibilità di inviare e ricevere soldi in tempo reale se un'altra persona ha N26. Questo ad esempio lo potete utilizzare se un vostro amico ha anche lui una carta con N26 e quindi dovete dividervi la cena o cose di questo tipo. Molto molto utile. Le cose che uso di più però sono due. La prima sono le statistiche. Quindi a fine mese potrete vedere tutte le varie spese mensili divise per categorie. Quindi magari non so, cibo e ristoranti oppure intrattenimento e sarà già tutto diviso in un comodissimo grafico. Cosa che è molto utile per chi poi vuole riportare queste spese all'interno magari di un budget come faccio io mensilmente. L'altra funzione molto utile è Spaces che ci consente di creare fino a due nel piano gratuito, di più nei piani a pagamento, spazi appunto dove possiamo depositare dei soldi e fondamentalmente restano lì. Sono dei conti di risparmio, dei sottoconti. Questo significa che se usate la carta per pagare e avete depositato dei soldi in uno di questi sottoconti questi non verranno mai toccati. Sono quindi molto utili per appunto crearsi degli obiettivi di risparmio. Magari si possono anche impostare delle routine automatiche per dire impostare che ne so, che ogni mese vadano 10 euro dal conto principale al conto viaggio. Quindi è molto molto utile. Ok, sembra tutto bellissimo, lo so. Adesso però vediamo gli svantaggi che principalmente sono due. Il primo svantaggio l'avevo già accennato prima ed è quello dei contanti. Chi utilizza molto i contanti e quindi ha bisogno di versare molti contanti, beh, non dovrebbe assolutamente aprire un conto con N26. Al momento, come ho detto, i depositi di contanti sono cari, ma sono anche complicati da fare, perché per depositare contanti l'unica possibilità al momento è andare in uno dei punti vendita della catena di supermercati PAM, che appunto al momento ha una partnership con N26, per cui ha installato degli ATM ed è possibile depositare. Però molto molto scomodo per chi non ha un PAM vicino, quindi di nuovo, attenzione se volete depositare dei contanti. Personalmente io non deposito mai contanti né li uso quotidianamente, quindi questo per me non è un grande svantaggio, però mi sembrava giusto raccontarvelo. Numero due, le funzioni. Sì, ho detto prima che ci sono delle funzioni interessanti, ma ci sono anche delle funzioni mancanti a parer mio, funzioni che utilizzerei molto volentieri. Con N26, per esempio, non è possibile richiedere una carta di credito oppure un prestito. A quanto ho sentito è possibile richiedere uno scoperto di conto, ma non ne sono sicuro e comunque bisognerebbe fare una trattativa privata con N26, quindi diciamo che non si può. Inoltre non è possibile fare dei bollettini postali o dei MAV, cose che ad esempio mi capita di fare spesso per l'università, magari per pagare le rate e sinceramente preferirei non dover andare in posta. Ma arrivando a una conclusione, N26 ve lo consiglio oppure no? La risposta breve è sì, ma dipende. Infatti vediamo un attimo alcune cose da dire. Tanto per cominciare, N26 non lo consiglio come conto principale, ma solo come conto secondario. Magari per gestire le spese più piccole oppure per sfruttare spaces e quindi accumulare dei risparmi. In questo caso è molto utile ed è ad esempio quello che sto facendo io, quindi io lo utilizzo per tutte le spese ordinarie, non quelle troppo grosse, però mi è molto utile poi a fine mese avere il resoconto e cose di questo tipo. Avere un conto secondario poi può tornare utile nel caso ci siano dei problemi con il conto principale, d'altronde non si può mai sapere. Se comunque foste interessati a provare N26 vi lascio qui sotto il link affiliato con il quale se vi iscrivete da lì potete sostenere il canale. Ovviamente siete anche liberi di non passare attraverso questo link, però fondamentalmente non cambia nulla. Per oggi quindi è tutto, io vi saluto e alla prossima!